ok ragazzi ciao a tutti e faccio in questo video una soluzione di un altro quesito di geometria nello spazio euclidea e questa volta tratto da sempre da una sessione suppletiva del 2008 è il sesto quesito questa era del liceo sperimentazione pni che adesso non c'è più però insomma è sempre un quesito d'esame il pni era un indirizzo con più matematica e più fisica che è più o meno a metà il liceo scientifico che c'è oggi è quello che era il pni comunque andiamo a vedere cosa dice il quesito ho scelto questo quesito perché mi permette di insomma di vedere un po di terminologia e di anche di una frase una certa terminologia che non ho mai usato e quindi può essere utile vedere cosa significa e anche perché sembra a che fare con cono e cilindro che non ho affrontato ancora in altri in altri esercizi e è un po perché anche un testo che sembra un po ostico e invece poi insomma forse non è così difficile il testo è questo si dimostra che il volume del cilindro equilatero inscritto in una sfera di raggio r è medio proporzionale tra il volume del cono equilatero inscritto e il volume della sfera quindi vediamo quali sono gli ingredienti c'è una sfera c'è un cilindro inscritto nella sfera oppure un cono inscritto nella stessa sfera c'è il si parla di cilindro equilatero e di cono equilatero quindi qui dobbiamo ricordarci cosa significano questi termini e e poi dobbiamo capire cosa significa medio proporzionale perché è una terminologia che io non ho mai usato perché non ho mai affrontato in dettaglio purtroppo la similitudine però non è una cosa difficile quindi colgo l'occasione per l'occasione la mano non con Giogebra quindi per le circonferenze c'è le sfere diciamo che il proverbio delle sfere fanno abbastanza schifo credo che più o meno si capisca e almeno per quello che vogliamo fare quindi bisogna valutare prima di anche dire cosa significa medio proporzionale lo posso anche dire dopo abbiamo bisogno di sapere i volumi di esprimere i volumi e idealmente di esprimere tutti i volumi in termini dell'unica variabile che viene fornita che è il raggio della sfera dobbiamo ricordarci iniziamo dal cilindro il cilindro equilatero significa che l'altezza è uguale al diametro ok quindi magari chiamo diamo delle lettere indichiamo con b ad esempio il diametro il raggio del cilindro e r è il raggio della sfera qui ho indicato il centro della sfera quindi questo segmento qui individuato qui è il raggio della sfera io voglio valutare il volume del cilindro e quindi ho bisogno dell'area di base e dell'altezza e in particolare quindi del raggio di base per cui la mia idea è voglio esprimere il raggio di base in funzione del raggio della sfera circoscritta a questo cilindro e voglio allo stesso tempo esprimere l'altezza però l'altezza io so che è il doppio del raggio perché è uguale al diametro quindi una volta che ho espresso il raggio ho in realtà espresso anche l'altezza quindi disegnando questo triangolino qua ho messo in evidenza il fatto che lo chiamiamo b magari come ho detto il raggio del il raggio del nostro cilindro so che essendo un cilindro equilatero l'altezza dovrà essere il doppio quindi dovrà essere 2b e inoltre per simmetria so che questo centro della sfera dovrà essere a metà altezza e di conseguenza questo segmentino come già stavo scrivendo prima era e anche lui b perché tutta l'altezza sarebbe pari al diametro e quindi metà altezza è pari al raggio questo è il raggio della sfera che viene indicato con r e di conseguenza posso esprimere b in termini raggio della sfera perché beh usando il teorema di pitagora o la diagonale di quadrato come volete uno può scrivere che r è uguale a b per radice di 2 e di conseguenza b è uguale a r fratto radice di 2 quindi l'altezza del nostro cilindro possiamo chiamarla h volendo non sarà altezza h è semplicemente due volte questo quindi è 2b cioè 2r fratto radice di 2 quindi il volume del cilindro è area di base quindi pi greco raggio di base alla seconda per l'altezza ma l'altezza è due volte raggio di base quindi abbiamo 2pi greco per raggio di base alla terza e il raggio di base è r su radice di 2 quindi abbiamo 2pi greco r alla terza fratto radice di 2 alla terza la radice di base alla terza vuol dire 2 per radice di 2 e quindi un 2 si semplifica e mi rimane pi greco r alla terza fratto radice di 2 e quindi questo è il volume del cilindro ora andiamo a vedere il volume del cono il cono anche se dice è un cono equilatero il cono equilatero vuol dire che è ottenuto dalla rotazione completa di un triangolo equilatero quindi questo triangolo che ho evidenziato qua è un triangolo equilatero quindi questo segmento qui in altre parole che è cosiddetto apotema è uguale al diametro ok? quindi indichiamo questo raggio che non è lo stesso di questo lo chiamo c magari e poi qui naturalmente c'è possiamo individuare l'altezza di questo cono allora io vorrei esprimere anche questo cono anche il volume di questo cono in termini del raggio della sfera cerco scritta e perché così poi posso confrontare tutti e tre i volumi cioè il volume del cilindro, il volume del cono e il volume della sfera che beh è il più facile perché semplicemente è 4 terzi pi greco r3 quindi il mio scopo adesso è determinare il volume del cilindro, del squat del cono in funzione del raggio della sfera quindi quello che posso fare è di nuovo evidenziare in qualche modo questo raggio della sfera quindi il centro per semmetria si troverà sull'asse del cono e io voglio cercare di esprimere quindi questo segmento qui chiamiamo magari questo punto V vedete Vo è il raggio effettivamente e come posso fare per esprimere c e l'altezza in termini di R quindi questo è leggermente più difficile che per il cilindro e dobbiamo usare naturalmente il fatto che per il cono equilatero A è uguale a due volte il raggio di base quindi 2C cioè uguale al diametro e inoltre in questo triangolo qui, magari ci metto le lettere AB, VAB questo è un triangolo equilatero quindi questi angoli sono tutti di 60 gradi quindi posso usare, questi qui sono di 30 poi in particolare quindi posso usare tutte queste cose probabilmente ci sono anche altri metodi diversi da quello che vi faccio vedere qua e magari qualcuno anche più bello, più veloce che spero possiate trovare voi però un modo è quello che vi faccio vedere adesso possiamo determinare A in funzione di R se tracciamo questo segmento qua e una volta determinato A in funzione di R posso determinare C in funzione di R e una volta che ho A e C ho anche l'altezza in realtà grazie al teorema di Pitagora o in altri modi e quindi posso poi determinare il volume quindi questo è il piano allora inizio a notare che questo è un triangolo isoscele e questo qui appunto è il raggio R no, in effetti l'avevo fatto anche in un modo più veloce in realtà sì e si potrebbe ragionare su questo ma in realtà ho fatto prima cioè lasciando perdere questo triangolino che ho evidenziato qua si può notare usare il teorema della corda ancora più veloce in realtà di quello che stavo per fare possiamo usare il teorema della corda e quindi se ce lo ricordiamo naturalmente altrimenti dobbiamo usare metodi più elementari però il teorema della corda ci dice che una corda è uguale a due volte il raggio per il seno di un angolo alla circonferenza che sottende alla corda e in questo caso l'angolo alla circonferenza che ci interessa è proprio questo qua ok? ABV e quindi questo mi dà la corda che è l'apotema e questo angolo è di 60 gradi per quanto abbiamo detto e di conseguenza il seno di 60 gradi è radice di 3 su 2 e quindi troviamo r radice di 3 per l'apotema d'accordo? quindi concludo che a è uguale a r radice di 3 e quindi trovo anche c in realtà vedete perché c è uguale a mezzi e cioè r radice di 3 fratto 2 e posso trovare anche l'altezza del mio del mio cono in questo caso l'altezza del cono chiamo di nuovo H anche se è diversa da quella di prima l'altezza del cono è se vedete se vedete a per se no di 60 per esempio quindi è a per radice di 3 fratto 2 ma a è r radice di 3 e quindi troviamo semplicemente 3 mezzi r per l'altezza del nostro cono e a questo punto ho tutto quello che mi serve perché ho il raggio di base in termini del raggio della sfera e ho l'altezza in termini del raggio della sfera e quindi posso ricavare il volume del cono in termini del raggio della sfera e è un terzo raggio di base quindi r scusate è un terzo area di base quindi pi greco r radice di 3 fratto 2 alla seconda quindi un terzo pi greco per raggio di base alla seconda per altezza 3 mezzi r quindi il 3 qua mi si semplifica mi rimane pi greco r alla seconda 3 fratto 2 alla seconda quindi 4 per r mezzi e quindi mi rimane pi greco per 3 ottavi quindi potrei scrivere 3 ottavi pi greco per r alla terza e questo è il nostro è il volume del cono ok infine abbiamo il volume della sfera che è semplicemente dato dall'applicazione della formula quindi 4 terzi pi greco r3 allora adesso veniamo alla conclusione quindi cosa significa che un numero è medio proporzionale fra altri due non so se lo avete mai sentito in precedenza io non credo di averlo mai usato si dice che un numero è medio proporzionale tra altri due quindi b è medio proporzionale fra a e c se a sta a b come b sta a c o se volete a sta a b come preferisco scrivere le proporzioni in termini di frazioni a sta a b come b sta a c quindi si chiedeva di dire se è vero cioè di dimostrare in realtà quando si dice che è vero dobbiamo dimostrarlo che il volume del cilindro è medio proporzionale fra il volume del cono e il volume della sfera quindi vogliamo dimostrare che il volume del cono sta al volume del cilindro come il volume del cilindro sta al volume della sfera e va bene quindi vediamo se è vero usando le formule che abbiamo trovato quindi volume del cono fratto volume del cilindro viene v cono fratto v cilindro le formule erano 3 ottavi pi greco era la terza fratto il cilindro era pi greco era la terza fratto radice di due quindi il pi greco e le r3 si semplificano e mi rimane 3 ottavi per radice di due ok? perché è fratto 1 su radice di due voglio vedere se è uguale a volume cilindro fratto volume sfera quindi volume cilindro fratto volume sfera è uguale a pi greco r3 su radice di due fratto abbiamo detto 4 terzi pi greco r3 e quindi si semplifica di nuovo il pi greco r3 e ci rimane 1 fratto radice di due per reciproco quindi 3 quarti per verificare che sono uguali razionalizziamo qua moltiplichiamo sopra e sotto per radice di due e quindi sopra mi rimane 3 per radice di due sotto mi rimane 2 per 4 che fa 8 e quindi abbiamo verificato che questo e questo sono uguali e quindi che il volume del cilindro è medio proporzionale fra il volume del cono e il volume della sfera quindi concludo qua di nuovo se non vi era venuto o c'è un altro quesito diciamo simile c'è sempre un cilindro equilatero iscritto in una circonferenza provate a fare quell'altro che avevo assegnato che è il quesito 2 del corso dell'esame di ordinamento sessione ordinaria 2004 e provando a applicare diciamo metodi simili a quelli che ho usato qua quindi chiudo qua vi saluto spero che si sia capito qualcosa e ci vediamo alla prossima ciao ciao